L'avvocato Pia Perricci, candidato sindaco della lista civica aperta Vieni Oltre, replica alle parole di Francesca Franquellucci, assessore della Comune di Pesaro ed esponente della Movimento 5 Stelle. Una risposta che tocca vari punti, da quello delle accuse a quello delle minacce, fino alla tempistica delle dichiarazioni. Noi non è che replichiamo, noi vogliamo chiarire definitivamente un polverone che si sta alzando. Allora, noi non abbiamo accusato in alcuna maniera la Franquellucci di nulla, abbiamo chiesto dei chiarimenti. Ora, se i cittadini non possono chiedere dei chiarimenti, questo dimostra il fare poco trasparente di un'amministrazione che si è tenuta sempre lontana dai cittadini. Noi abbiamo semplicemente segnalato delle situazioni e richiesto dei chiarimenti. Quello che è emblematico è che la persona che sta alzando il polverone è proprio la Franquellucci che non è accusata di nulla. E invece gli altri, i dati ci sono, voglio dire, la Mattioli, Perugini e la Cecchini, i dati ci sono. Quindi, piuttosto che alzare questo polverone, noi ci chiediamo come mai il Movimento 5 Stelle, che era all'interno del Consiglio Comunale, che era all'interno degli uffici comunali, non ha verificato nulla di questi affidamenti diretti. Peraltro la situazione è molto grave, che questi affidamenti diretti sono stati effettuati in un momento di crisi economica, non solo dei pesaresi, ma degli italiani, perché era il periodo Covid, quando tanti pesaresi non riuscivano, non potevano andare a lavorare. Quindi questa è la parte più grave, la mancanza di trasparenza. Quindi quello che sorprende è questo comportamento. In merito alle asserzioni fatte sulle minacce, voglio precisare che le minacce a me sono arrivate sul mio telefonino, sul mio cellulare, sono scritte e sono arrivate alle 23 di notte, dove mi è stato detto che io non potevo permettermi di parlare, di dire che il Movimento 5 Stelle aveva votato all'unanimità a favore dell'aumento dell'Atari e che avrei avuto delle ripercussioni. Io sinora non ho sporto denuncia e non ho fatto il nome di colui che mi ha minacciato, proprio perché stavo conducendo delle elezioni politiche in una maniera pulita, proprio per non alzare ulteriori polveroni. Ma considerato che vengono messe in discussione anche le minacce, ora io mi trovo costretta a depositare la denuncia per dimostrare quella che è la mia serietà e quindi entro la giornata di domani io depositerò la denuncia nei confronti di colui che mi ha minacciato, così anche questo verrà smentito. Per il resto noi abbiamo fatto e risonoto i dati nel momento in cui li abbiamo avuti, non è che li abbiamo resi noti oggi perché volevamo sporcare la campagna elettorale, li abbiamo avuti adesso e adesso li abbiamo resi noti, perché purtroppo la pubblica amministrazione del comune di Pesaro non è mai stato collaborante, al punto tale che adesso mi troverò a fare un ulteriore ricorso, perché abbiamo fatto accesso agli atti per sapere le spese per quanto riguarda la sfera, la biosfera, le spese di manutenzione e altro, sono scaduti tutti i termini, prima di fare ricorso ho detto scusate guardate che sono scaduti i termini, ci date una risposta e nessuno ha mai risposto. Quindi noi rendiamo note le cose ai cittadini nel momento in cui ci arrivano le risposte.